Eccoci, buonasera, il telegiornale parte innanzitutto dal dato di fatto di oggi. Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale, quella che aveva per primo firmatario il capogruppo alla Camera del PD Ettore Rosato, così non uso quella locuzione del latinorum. E avendola firmata, sia pure poi con anche le proteste successive dei 5 Stelle, con Di Battista dicono ha fatto un errore, ora c'è una certezza con che regole del gioco si andrà al voto, verosimilmente lo dicono tutti il 4, l'11 o il 18 di marzo, comunque alla fine dell'inverno in una campagna elettorale che di fatto inizia già martedì, se davvero ci sarà da noi o altrove il match Renzi-Di Maio. Ma quando si affronteranno, se davvero ci sarà il match i due, ci sarà già qualcosa agli atti, cioè il risultato delle elezioni in Sicilia, domenica dalle 8 alle 22. La Sicilia è molto, è praticamente più dell'8% dell'elettorato italiano, ma soprattutto è un banco di prova forte per il centro-destra, per i 5 Stelle, per la stessa compagine variegata del centro-sinistra. Vedremo quel che succederà, completeremo i volti e le voci dei candidati questa sera, ma sappiamo che ieri sera c'è stato quello che è stato definito il patto dell'arancino tra Berlusconi, Salvini e la Meloni. Però bisogna ricordare che domenica si vota anche a Ostia, voi direte che cos'è, è un pezzo di Roma? Sì, è uno dei tanti municipi di Roma, però lì ci vivono 230 mila persone e a un anno e pochi mesi dal voto della capitale che ha issato la Raggi al Campidoglio è un riscontro che ha il suo interesse. Della Sicilia e di Ostia, lo ricordo già da adesso tra parentesi, ci occupiamo nella nostra non stop elettorale che parte alle 21.30 di domenica, alle 22 vi presenteremo gli exit poll riguardanti appunto il voto regionale siciliano e poi andremo avanti tutta la serata e riprenderemo però la mattina dopo perché c'è il riscontro del dato ufficiale degli scrutini soltanto a partire dalle 8 di mattina di lunedì. Sarà una lunga non stop, anche se speriamo di interromperci qualche ora e andremo avanti fino a lunedì sera. Chiusa parentesi, parliamo del match in corso tra governo, forze politiche e sindacati sul tema dell'innalzamento della pensione a 67 anni. Si stanno individuando le categorie che per la gravosità del loro lavoro avranno diritto all'esenzione dall'innalzamento ulteriore dell'età pensionabile. Si va dai lavori che sono tradizionalmente i più pesanti a quelli che forse non cogliamo come siano onerosi dal punto di vista fisico e intellettuale ma sono altri. Vedremo appunto su quali occupazioni ci si sta orientando e vedremo se poi tutto andrà avanti consensualmente sia a livello parlamentare sia a livello del rapporto tra governo e forze sociali. Andremo a vedere in Catalogna gli otto in prigione, adesso uno in meno che è uscito dietro cauzione, ma praticamente è una parte importante di quello che era il governo della Catalogna e si sa che Puigdemont rischia l'arresto internazionale. Comunque è chiara la strategia degli indipendentisti, vincere l'elezione, presentarsi quindi a essere candidati e con la relativa immunità e se vincono si sa cosa può succedere, lo scontro aperto, la doppia legittimazione. Torneremo in Italia perché ci sono storie, la storia dell'unico uomo che è andato in prigione dopo il terremoto dell'Aquila, andò in prigione perché era il preside del convitto e forse, anzi forse ormai passò in giudicato alla condanna, fu negligente nel dare la possibilità agli studenti di non entrare nell'edificio che rischiava di essere lesionato come poi è successo dal terremoto. È stato graziato dal capo dello Stato. E poi ci sono le storie di violenza, storie di violenza nella parte più degradata della periferia romana, ma le storie di violenza che arrivano invece dai quartieri alti del grande cinema. I titoli, 30 secondi. Il capo dello Stato firma la nuova legge letterale che sappiamo è un sistema misto, proporzionale e maggioritario, nessun elemento di incostituzionalità. È stato dunque riscontrato da Mattarella. Da oggi tutto è proiettato alla consultazione che sarà a marzo, probabilmente il 4, e lo confermano per primi Di Maio e Renzi che già saltando il voto siciliano sono pronti a sfidarsi martedì in tv. Ma dove? Il primo verdetto comunque importante sarà quello di domenica con le regionali siciliane. L'ultimo atto della campagna elettorale tra poco alle 21 sarà Grillo, Comizio a Palermo insieme a Cancelleri, poi il consueto silenzio aspettando l'esito del voto e il voto lo vivremo insieme. Se vorrete dalle 21.30 di domenica nella nostra non stop che riguarderà la Sicilia ma anche Ostia. La parte di Roma che va al voto pure domenica, si sta parlando di 230.000 abitanti. Sarebbe la tredicesima città italiana. L'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita pronto a scattare dal 2019 ci sarà, lo ha confermato il governo. Però c'è una platea di qualche decina di migliaia di persone che potrebbe essere esentata. Sono quelle che hanno una occupazione definita gravosa, ovvero particolarmente pesante dal punto di vista fisico e non soltanto. Minatori, macchinisti, camionisti, facchini, ma anche gli insegnanti di asilo, scuole materne, infermieri, operatori ecologici. Dovrà essere stirata una lista. Chi ne farà parte? Sono pronto a candidarvi alle prossime elezioni anche rimanendo all'estero. Saremo tutti in lista. La sfida lanciata da Puigdemont che da Bruxelles ha annunciato di volersi presentare al voto del 21 dicembre. Non è con un governo in prigione che queste elezioni saranno indipendenti, neutrali e normali, ha detto Puigdemont dopo il mandato di cattura internazionale spiccato per lui da Madrid e gli arresti soprattutto degli otto ministri avvenuti ieri. E' stata concessa la grazia sulla pena accessoria, togliendo quindi l'interdizione dei pubblici uffici al dirigente scolastico Bearsi. Era il preside del convitto scolastico dell'Aquila che crollò nel terremoto del 2001 provocando la morte di tre studenti. Bearsi, condannato a quattro anni, era andato in carcere per 43 giorni prima di essere affidato ai servizi sociali. Ora potrà tornare a dirigere una scuola. Un'altra storia di violenza su ragazze, per di più in questo caso due quattordicenni nel quartiere più degradato forse di Roma. Le indagini che hanno portato all'arresto di due giovani nomadi di origini bosniache che avevano adescato le ragazze via chat. Ma diciamocelo chiaramente, in questo stesso momento si parla di altre violenze, le più gravi e continuate in un mondo ovattato, da cui nulla doveva uscire. Quello del grande cinema. Buonasera, quindi il fatto del giorno, almeno a nostro avviso, è che il Presidente della Repubblica ha firmato la legge elettorale che è stata votata, come sappiamo, dal Parlamento prima la Camera e poi il Senato. E a questo punto è iniziato il conto alla rovescia, ci sono le regole del gioco, c'è una data presumibile, si parla sempre del 4 marzo, ma potrebbe essere anche l'11 o il 18 in cui si tornerà a votare. Sarà eletto il nuovo Parlamento e da questo consegue poi tutto, si capisce tutto quello che succede e sta per succedere. Si avvicinano le scadenze, si stringono le marcature, tanto più ora che è arrivata la firma del Presidente Mattarella sulla nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatello l'Umbis, a definire per tutti le regole del gioco. Lo ha fatto proprio lui che dette il nome a un'altra legge elettorale, il Mattarellum, dopo riflessione di circa una settimana promulgandola. Mattarella mette fine a ogni dubbio circa presupposti di incostituzionalità, chiude, di conseguenza, ogni richiesta di invio alle Camere, come avevano chiesto quelli del Movimento 5 Stelle e apre di fatto ufficialmente la corsa elettorale di qui a 4 mesi quasi esatti. Una corsa che non aspetta, certo, la strettoia elettorale del fine settimana per guardare al dopo, in una fase in cui tre soggetti in campo, PD, centrodestra e 5 Stelle, non smettono di guardarsi, di studiarsi e magari anche di confrontarsi, specie PD e 5 Stelle, se solo andasse in porto il faccia a faccia TV lanciato ieri da Di Maio, subito raccolto da Renzi, di cui però non basta conoscere il quando, martedì sera, bisognerebbe anche sapere il dove, che ancora invece non c'è. Sulla 7, come aveva proposto in un primo momento Di Maio, trovando disponibilità da Renzi o sulla RAI, come invece sembra preferire ora il PD e soprattutto la dirigenza di Viale Mazzini. Non può che essere la RAI, la sede naturale del confronto, ha scritto il CDA in una lettera al Presidente della Commissione Vigilanza, che tra parentesi è il 5 Stelle Fico. In compenso PD e 5 Stelle vicini si ritrovano come per incanto sul versante banche il giorno dopo l'audizione in Commissione del Capo Vigilanza di Banca Italia Barbagallo e del Direttore Generale della Consob a Poni. I manager e i banchieri che hanno sbagliato devono pagare attacca sulla sua e-news e il segretario del PD. Le alte burocrazie del Paese devono smettere di buttare la croce addosso ai politici di turno e assumersi anche loro le proprie responsabilità. Non è populismo, è giustizia. Mentre 5 Stelle traggono dalle audizioni di ieri conferma delle loro teorie sulla debolezza e disorganicità dei controlli sul sistema del credito. Avevamo ragione, dicono già. Al debutto della Commissione d'inchieste i regolatori hanno dato versioni discordanti sull'azione nei confronti delle banche venete. In congruenze dice di averne riscontrate anche Brunetta, che della Commissione è il Vice Presidente, che coglie l'occasione per ripetere che Forza Italia è sempre da una sola parte quella dei risparmiatori. Siamo più che mai determinati a trovare i veri responsabili, aggiunge, mostrandosi fiducioso sul lavoro della Commissione. Ma dalle sue parti, sul tavolo, più delle banche, è un tavolo quello di un rizzonante di Catania, intorno al quale si sono seduti e risera i tre leader della coalizione, che a quanto pare, dal voto siciliano di domenica, aspettano solo il giusto viatico per proiettarsi su quello nazionale. Prima sì, poi no, poi forse, ma alla fine tre ore insieme, fino a notte inoltrata per un patto già definito in omaggio alla cucina locale dell'Arancino, ma dove la questione della famosa leadership tra Berlusconi e Salvini è rimasta fuori. Non ne abbiamo parlato, ha commentato il segretario della Lega, non volevo rovinargli la serata. Questo è quello che succede anche attorno al voto siciliano, e che praticamente sta arrivando, finisce stasera la campagna elettorale, si vota domenica. Pedalata di gruppo a Palermo, prima della chiusura in piazza con Grillo e Casaleggio, per i 5 Stelle che domenica in Sicilia puntano la vittoria alle regionali. Trampolino di lancio anche per le politiche contro gli inciucisti del Rosatello, un attacca di Maio. Ovunque siamo andati, c'è grande entusiasmo, grande voglia di cambiare, ma soprattutto grande voglia di chiudere con un passato che ha generato solo disastri e macerie. I cittadini hanno ben presente che il 5 non si vota per eleggere il Presidente della Regione, ma si vota un referendum. Il passato che torna, inequivocabilmente con tanto di sigla di partito e Forza Italia dopo 20 anni, è invece il futuro. Il duello diretto si profila proprio con il centrodestra, tanto che Berlusconi alzando il tiro ha evocato un pericolo grillino con il passaggio dalla violenza del linguaggio alla violenza fisica. Non so a cosa si riferisca. Il tono del linguaggio è molto alto, è stato molto alto anche qui in Sicilia. Infatti il suo mi sembra molto alto e fuori luogo molto spesso. Tra i temi a 5 Stelle non solo, qui anche il rilancio dell'autonomia. Va oltre il candidato di siciliani liberi, erede di una lunga tradizione indipendentista. Noi rivendichiamo immediatamente l'indipendenza economica con l'attuazione integrale dello statuto e la zona economica speciale. Noi porteremo la questione siciliana al Parlamento europeo e faremo sì che la Sicilia possa crescere attraverso l'attuazione della zona economica speciale che viene attuata per le zone insulari e marginali proprio come la Sicilia. Conta anche sul patto dell'Arancino, la tregua siglata a Catania dai tre leader Meloni, Berlusconi e Salvini, il candidato di centrodestra Nello Musumeci. Se la dovranno vedere anche tra loro con un elettorato progressista diviso i candidati di PDAP Fabrizio Micari e di MDP e Sinistra Italiana Claudio Fava. Con le interviste di stasera abbiamo chiuso il cerchio dei cinque candidati, ve li abbiamo mostrati tutti. Vi voglio ancora ricordare, brevissimamente stavolta, ci vediamo se volete per i risultati. Il primo exit poll soprattutto del voto siciliano alle nove e mezzo di domenica sera. Vi presenteremo anche il nostro sondaggio nazionale anticipato di un giorno e commenteremo gli exit poll che si evolveranno nel corso della serata con ospiti nella nostra tradizionale trasmissione. E daremo anche però i risultati di un altro test elettorale atteso per molti aspetti, quello di Ostia. Già, è solo un municipio di Roma, ma sono più di 230 mila abitanti e sentite. Con i suoi 250 mila abitanti Ostia nella classifica dei capoluoghi sarebbe al tredicesimo posto tra Verona e Messina. Per questo gli occhi dei partiti sono puntati su questo popoloso quartiere della capitale. Il mare di Roma, ma anche la Miami italiana nei sogni di mafia capitale, sfumati, bruciati dall'inchiesta che ha portato anche all'arresto dell'ex minisindaco del PD Andrea Tassone. Qui il Movimento 5 Stelle un anno e mezzo fa incassò il 44% al primo turno. Trampolino della Raggi verso il Campidoglio, il PD prese una batosta notevole, fermandosi al 13 e 9. Partiti chiamati ora ad una verifica della loro forza. Così sul palco per la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, insieme alla candidata Giuliana Di Pillo, ci sono la sindaca Raggi e Roberta Lombardi in corsa per la regione. Le rivalità personali, le polemiche al veleno finiscono nel cassetto. Tutto il voto serve a verificare se in uno dei quartieri più popolosi di Roma tiene l'effetto Virginia. Punta a conquistare questo pezzo importante della capitale il centrodestra, che presenta Monica Picca, candidata di Fratelli d'Italia. A sostenerla sono arrivati diversi big nazionali, in ordine sparso però. Per la foto con Picca, Meloni si è presentata questa mattina, Salvini nel pomeriggio, Berlusconi ha scritto un messaggio su Facebook. A sostenere Atos De Luca, ambientalista storico della capitale, sul palco di Ostia è arrivato il presidente del PD Orfini. Giacano in difese democratici. L'inchiesta Mafia Capitale ha travolto il precedente parlamentino commissariato dal settembre del 2015. Con il PD in difficoltà puntano al sorpasso clamoroso quelli di Casa Pound, destra sociale, da settimane in giro per il quartiere con pacchi di cibo. Per gli italiani in difficoltà. Non ho niente da vergognarmi, risponde il candidato Luca Marsella sulla foto con un componente della famiglia Spada, Roberto, che non risulta indagato ma è il fratello del più noto Carmine, condannato in primo grado a dieci anni per estorsione con l'aggravante mafiosa. Può togliere voti al PD Franco De Donno, vice parroco antimafia, sospeso a Divinis per la sua discesa in campo. Nove in tutto i candidati. Eugenio Bellomo si presenta per Sinistra Unita, Andrea Bozzi con i centristi di Sogno Comune, Giovanni Fiori per il popolo della famiglia, Marco Lombardi con una lista civica. Allora, parliamo prima di andare agli altri fatti italiani di quello che succede in Catalogna. Perché? Perché innanzitutto in questo momento è stato ufficializzato da parte di Madrid il mandato di cattura internazionale, mandato di cattura europeo per la precisione, per tutto il territorio comunitario di Carles Puigdemont. E perché, prevedendo forse l'ufficializzazione per questi minuti, in serata c'è stata un'intervista di Puigdemont in Belgio, che è il nuovo guanto di sfida. Mentre nelle città della Catalogna si protesta ancora stasera, tutto culminerà una grande manifestazione l'11 novembre, per gli arresti dei ministri di Puigdemont. Si presenta negli studi della TV pubblica belga RTBF Carles Puigdemont. L'intervista è andata in onda poco fa, alle sette e mezzo, ma è stata registrata qualche ora prima, mentre tutta la Catalogna è di nuovo in piazza per protestare. Non sono scappato, dice, ma voglio comparire davanti alla vera giustizia, quella del Belgio e dunque non quella spagnola. Parla in francese, ostenta tranquillità e, quando glielo chiedono, dice che sì, sarebbe anche pronto a candidarsi per le elezioni, che si terranno il prossimo 21 di dicembre, ma dal Belgio, facendo campagna elettorale dall'estero. Tanto, dice, il mondo è globalizzato, non farebbe alcuna differenza. E invece la novità c'è, perché Puigdemont diceva di non volersi ripresentare al termine del suo mandato, che in effetti però non si è concluso, ma dal suo punto di vista è stato semplicemente interrotto. Liberissimo comunque di farlo, ha confermato un portavoce del governo spagnolo. Finché non ci sarà una condanna definitiva, tutti godono dei loro diviti civili e dunque possono presentarsi alle elezioni. Comunque, la notizia è che il presidente della Generalitat, che solo ieri aveva registrato un video, non è irreperibile, ma continua a restare a Bruxelles, insieme ad altri quattro membri dell'ormai deposto governo catalano. Si preparano invece a passare la loro seconda notte in carcere gli altri nove esponenti politici arrestati ieri a Madrid, o meglio, nove erano stati arrestati, ma ad uno di loro, Santivilla, dimessosi appena 24 ore prima della dichiarazione di indipendenza, perché contrario a quella decisione, era stato concesso di pagare una cauzione di 50.000 euro e uscire la prima notte, la passata con i compagni. Oggi è uscito. E mentre gli ex ministri catalani varcavano le porte delle carceri madrilene, trattati, secondo Puigdemont, con ben pochi riguardi, per non dire irrisi, a Barcellona si manifestava, così come stasera per l'appunto, chiedendo la liberazione dei prigionieri politici al grido di Puigdemont e il nostro presidente. In giornata sono stati respinti i tentativi di ricorso fatti dagli avvocati di alcuni degli imputati, mentre la giudice spagnola Carmen Lamela, che ha in mano il dossier, sta studiando ancora i termini per il mandato di cattura europeo per Puigdemont e i quattro ministri rimasti in Belgio. Non è un compito facilissimo, non essendoci stato uso della forza, mentre la stessa accusa di ribellione viene ritenuta infondata da diversi giuristi. Sono nove i prigionieri politici, come li chiamava quella folla di Barcellona, perché ci sono, erano otto, uno è uscito, abbiamo sentito nel servizio, ex ministri del governo regionale autonomo della Catalogna, più i due leader che da ormai tre settimane sono in prigione, i due leader dei principali movimenti indipendentisti catalani, i due giordi dal loro nome di battesimo comune. Ebbene, restano fuori, solo perché si trovano in Belgio, ma raggiunti da stasera dal mandato di cattura europeo, Puigdemont e gli altri quattro ministri che sono andati con lui nella capitale belga. Questa è la situazione, una situazione che resta esplosiva, resterà esplosiva ancora almeno fino al 21 dicembre, fino alla data di quelle elezioni, immaginate la campagna elettorale. Torniamo alle cose italiane quindi. C'è un problema sociale forte, l'inalzamento, lo sappiamo, dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019. Ne saranno esentati, ormai è chiaro ed è praticamente ufficiale, una serie di categorie, coloro che svolgono lavori gravosi. Già, ma cosa vuol dire? Un pilastro non può essere abbattuto e dunque se, come ha dichiarato ieri il ministro dell'economia Padoan, al termine dell'incontro con i sindacati, l'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita pronto a scattare dal 2019 è un pilastro del meccanismo previdenziale, evidentemente il punto fermo dell'esecutivo e la sua conferma. Conferma che Gentiloni e Padoan vorrebbero rendere operativa attraverso il necessario decreto direttoriale entro il termine stabilito il 31 dicembre. Senza quel rinvio di sei mesi, oggetto anche di un emendamento del Partito Democratico alla legge di bilancio, significherebbe cedere la patata bollente al prossimo esecutivo. Scelta stigmatizzata oggi attraverso le colonne del Corriere della Sera dal ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda. Decidere di non decidere, queste le sue parole, è un errore di metodo perché rischia di venir letto dei cittadini come una manovra elettorale e di merito perché potrebbe determinare un grave squilibrio del sistema pensionistico. La sostenibilità finanziaria è dunque la principale obiezione mossa da tutti i sostenitori della conferma immediata. Il problema è che poi quel tema va a scontrarsi con la vita delle persone, persone che magari per 40 anni e più hanno svolto occupazioni particolarmente gravose e che ora vorrebbero legittimamente godere dei frutti del proprio lavoro, senza dover aspettare i 67 anni. E proprio questo sarà il tema dei tavoli tecnici tra governo e sindacati da cui entro il 13 novembre dovrebbe uscire una soluzione. Soluzione che potrebbe consistere in un nuovo meccanismo di calcolo dell'adeguamento, anche se la più gettonata, per il momento è l'esenzione per un certo numero di anni proprio dei lavori cosiddetti gravosi. La base di partenza sarebbero le categorie già individuate dall'Ape Social, operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli, macchinisti ferroviari, conduttori di mezzi pesanti, infermiere e ostetriche ospedaliere, addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, professori di scuola preprimaria, facchini, addetti ai servizi di pulizia e operatori ecologici. A questi potrebbero essere aggiunti i siderurgici e gli agricoli, una platea di meno di 20.000 persone per un costo facilmente recuperabile tra le pieghe del bilancio di massimo 200 milioni di euro, non proprio una minaccia alla stabilità finanziaria della penisola. E siamo a una vicenda che ci riporta a una delle pagine più drammatiche della nostra storia recente, quel terremoto che poi purtroppo ha aperto una nuova via sismica ad altri terremoti. Ricordiamo il terremoto dell'Aquila. Per quella drammatica vicenda che ha riguardato un'intera comunità, una sola persona è andata davvero in prigione. Quella persona oggi ha ricevuto la grazia. Dopo il terremoto dell'Aquila sono state aperte decine di inchieste per gli oltre 200 edifici crollati, ma una sola persona in tutti questi anni è finita in carcere con una sentenza definitiva. E' quest'uomo, si chiama Livio Bearsi, 60 anni, che il 6 aprile 2009 era il preside del convitto nazionale. Condannato nel novembre 2015 dalla Cassazione a 4 anni per omicidio colposo plurimo e all'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. Oggi il presidente Mattarella gli ha concesso la grazia condonando l'interdizione. Bearsi cioè potrà tornare a fare il suo lavoro, probabilmente in un'altra scuola italiana. Dalla cella era già uscito nel dicembre 2015, un mese dopo essere stato arrestato, quando gli fu concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Da allora fa il volontario in un consorzio. I giudici dell'Aquila lo avevano condannato perché nel crollo parziale del convitto erano morti tre ragazzini, un 14enne italiano, una giovane di 15 anni e un ragazzo di 16 anni, questi ultimi della Repubblica cieca. In base al decreto legislativo del 2008 il dirigente scolastico è considerato come datore di lavoro e risponde quindi anche penalmente per la sicurezza dell'edificio escludendo invece possibili responsabilità di costruttori proprietari o enti competenti. Una normativa contestata dai sindacati di cui ancora oggi si sta discutendo la modifica. Ma per questo Bearsi fu condannato. I magistrati gli contestarono la mancata ristrutturazione di quell'istituto e l'assenza di un piano di sicurezza. Bearsi scrissero omise di valutare l'enorme pericolo incombente su quel vetusto edificio. Qualche ora prima della scossa più forte, quando l'Aquila continuava a tremare, il preside, regolamento alla mano, decise di far uscire dalla scuola tutti i ragazzi maggiorenni ma non i minorenni. Qualche ora più tardi, alla seconda terribile scossa, tre di loro morirono sotto le macerie. Per la legge il preside era colpevole dunque. Ma per lui, friulano, scampato al terremoto del 76, in questi anni si sono mobilitati centinaia di colleghi, sindacalisti, politici locali, anche aquilani, e molti parlamentari che hanno sottoscritto la richiesta di grazia che due anni fa lo stesso Bearsi scrisse a Mattarella. Oggi la decisione. La madre di Luigi, il 14enne morto, dice per una volta che la giustizia aveva funzionato. Una frase che non riesce a finire. C'è una bruttissima storia che ci riporta per l'ennesima volta al cospetto del tema della violenza sulle donne. Per di più, in questo caso, nell'ambiente di una periferia degradata con vittime minori. Avevano provato a dimenticare a gettarsi alle spalle una serata di brutalità e violenza subita lo scorso maggio. È stata l'insistenza dei genitori a farle crollare e a spingerle dopo un mese a raccontare quanto successo in un angolo nascosto, buio e abbandonato sulla collatina profondissima periferia est di Roma, a poca distanza dal grande raccordo anulare. Minacciate e poi violentate da un ragazzo conosciuto sui social network aiutato da un coetaneo anche lui Rom di famiglia bosniaca. La storia di degrado arriva dalle zone dimenticate della capitale. Una vicenda che comincia come tante altre da un incautoclick, un contatto su Facebook e un appuntamento per conoscersi. Una quattordicenne romana entra così in contatto con un ragazzo di 21 anni e decide di vederlo. Per sicurezza l'appuntamento porta con sé un'amica anche lei di soli 14 anni. Ad attenderla però c'è anche un altro ragazzo che ha 20 anni la piega che prende l'incontro è subito drammatica. Vengono entrambe costrette a seguire i due in un campo isolato poi vengono ammanettate una rigliere mentre uno fa il palo l'altro abusa delle ragazzine. L'episodio è avvenuto quasi sei mesi fa ma solo 30 giorni dopo l'accaduto le due quattordicenni hanno deciso di raccontare tutto e hanno fatto scattare le indagini dei carabinieri. i due ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo continuate a sequestro di persona continuato in concorso sono stati arrestati ieri sera il più grande a piccoli precedenti per furto e ricettazione entrambi vivono in un campo rom di via di salone non lontano da dove è accaduta la violenza. Di violenza però si parla in questi giorni soprattutto per ben altri ambienti completamente diversi da quelli delle periferie perché il tema della violenza sulle donne e non soltanto delle violenze che sono frutto di ruoli dominanti sta scuotendo gli ambienti angloamericani del cinema e della politica è ormai di 48 ore fa la notizia delle dimissioni del ministro della difesa britannico Fallon e tutti sappiamo invece cosa sono i casi Weinstein e soprattutto Spacey. Una figura indipendente destinata a raccogliere le accuse una linea telefonica ad hoc per eventuali segnalazioni e procedure di denuncia più semplici e riservate a tutela delle vittime per provare ad arginare lo scandalo delle molestie sessuali all'ombra del potere britannico Teresa May scende in campo con una serie di misure straordinarie vara un codice di condotta che dovrà essere firmato d'ora in avanti da tutti gli eletti del partito conservatore britannico le denunce di abusi sessuali attribuiti a numerosi parlamentari a cominciare dal ministro della difesa Michael Fallon costretto a dimettersi impongono risposte serie condivise da tutti i partiti dice la premia britannica se i conservatori sembrano i più coinvolti tra di loro anche il vice premier Damian Green nella famosa lista nera di Westminster non mancano anche i laburisti come il deputato 76enne Kelvin Hopkins sospeso dopo essere stato accusato di molestie da un attivista 25enne per il quale il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn è finito a sua volta sotto pressione in quanto Hopkins fu promosso brevemente ministro ombra l'anno scorso nonostante la vicenda fosse già stata sollevata di fronte al partito in forma anonima a carico di Fallon tra l'altro ci sarebbero anche altre accuse oltre a quelle della giornalista alla quale avrebbe toccato un ginocchio anche altre di una collega alla quale avrebbe pronunciato commenti osceni durante una riunione le cose sembrano mettersi male per Harvey Weinstein il potente produttore americano messo nei guai da 80 tra attrici modelle ed ex dipendenti che lo accusano di molestie la polizia di New York ha aperto un terzo filone di inchiesta dopo che l'attrice Paz della Huerta lo ha accusato di averla stuprata due volte sette anni fa per l'attore Kevin Spacey invece si è mossa a Scotland Yard la Metropolitan Police sta indagando sulle accuse di un giovane che afferma di essersi svegliato nel 2008 in casa dell'attore scoprendo che stava compiendo su di lui un atto sessuale uno scandalo che si sta allargando a macchia d'olio e che sembra destinato a riservare nuove sorprese anche in Italia a Venity Fair la showgirl Mariana Trevisan racconta per la prima volta l'episodio avvenuto venti anni fa negli uffici del regista premio Oscar Tornatore mi seguì fino alla porta e cominciò a baciarmi mi mise le mani sul seno probabilmente lui non se ne ricorda ma io sì e ricordo anche molto altro queste le notizie sicuramente da storie scabrose ma al di là dei fatti dei nomi noti o famosi perfino resta che è finita un'era in cui i racconti erano soltanto racconti che non oltrepassavano la chiacchiera di corridoio ora ci sono i fatti e soprattutto un modo di fare che non può non può più esistere e che è sicuramente esistito per le tante denunce che fioccano in queste settimane ma noi siamo a dirvi che dopo di noi Lilli Gruber ospita a 8 e mezzo Alessandro Di Battista Antonio Padellaro e Beppe Severnini e poi c'è il gruppo di propaganda live ci fermiamo Infine le borse pochissimo mosse Milano ha chiuso con un meno 0,14 in questo momento a Wall Street Dow Jones più 0,03 Nasdaq meno 0,01 è tutto Gruber poi Zorro ci vediamo domani sera buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti